Sono Mirei Ingridico, nato a Savona, il 21-6-1928, nome di battaglia Rimini. Lavorando poi alla Scarpa Magnano sul posto di lavoro ho trovato compagni che poi sono venuti, compagni della resistenza, Mignati, Angelo, Gielo, nome di battaglia e tanti altri. Lì eravamo un mucchio di tanti, hanno lasciato la pelle anche. Con quello abbiamo cominciato subito dopo l'8 settembre con i carri ferroviari, abbiamo preso le armi lì e di lì siamo andati avanti. Poi nella SAP, non so, poi sono venuto... Ti racconti la sua esperienza nella SAP? La mia esperienza nella SAP era un capogruppo, insomma, avevo la squadra numero 9, perché eravamo a squadra e non avevamo uomini. E noi operavamo dalla Villetta a Lavagnola, a Marmorassi-Lavagnola e anche verso il Cadibona, verso il maschio, che avevamo dei contatti lì, con un massa che è morto, poi non ce n'è più lì. E lì è stata la... le prime cose. Lì abbiamo fatto il volantinaggio, abbiamo fatto... Poi più tardi, con i tempi del 44, nel primo mese, abbiamo fatto i primi disarmi, via Milano, tanti altri posti. E poi ne abbiamo fatto una grande su alla... Abbiamo attaccato la guarnigione che faceva la guardia alla batteria tedesca, eravamo in nove. Lassù c'erano 15 GNR, ne sarebbero stati i ex carabinieri, che il Marascello Graziani non l'ha più voluto conoscere come arma reale. Per ora erano 15 di loro. Noi siamo andati in nove, avevamo poche armi e lì ci siamo riforniti. Insomma, abbiamo fatto un'improvvisata e noi... C'era Pippo con noi che abitava a pochi metri di lì e siamo riusciti ad entrare dentro. Fra quelli c'erano i nomi che conosco, c'erano Pippo, Spina, Paesanetto, Rimini, qualche nome mi... Sempione, qualche nome mi scappa, fra quelli c'ero io. E abbiamo... E c'era... Siamo entrati dentro e sapevamo già dove andare da questo Pippo qua che ci aveva segnalato tutto. Abbiamo preso in tre, siamo andati a bloccare una brigata nera. Io Sempione, Paesanetto, abbiamo bloccato una brigata nera che si chiamava Massa, con la brigata nera lì. E poi adesso è morto, non so, lì però noi... E' l'unico che ha reagito. L'unico... L'altra parte era un sabato sera e c'era... Di 15 ce n'era 6 dentro, di questi ragazzi qua della GNR. Si sono resi e hanno detto prendete, non fateci dar male, prendete tutto. E noi lì abbiamo ricoperato due mitra berretta o due pistole o tre, non mi ricordo, bomba a mano. Abbiamo fatto due fucili, due mitra, quelli lì che si inceppavano sempre, i balila. Sono quelli che hanno voluto farli come le steno. Lo steno si inceppava, quello lì ogni colpo si inceppava. E abbiamo ricoperato per la SAP di Savona. Poi io, dopo queste cose qua e poi un'altra che mi è successa, un po' grosso, non la dico. E ho dovuto scappare in montagna, e lì è stata la mia vita in montagna. E sono andato su, mi ha preso poi lì la staffetta Tambuscio, il nome di Battaglia Oaga, mi ha accompagnato su all'accampamento, mi hanno ricevuto lì, era all'accampamento San Bolino, era lì, come si dice, posteggiato, posteggiato, giù sotto il garbasso, eravamo 200 metri sotto il garbasso.